La Regione Abruzzo chiederà 50 milioni allo Stato per le opere di tutela delle coste abruzzesi. Marsilio ha preparato un emendamento alla legge di bilancio, in agenda oggi alla Commissione del Senato, affinché venga accordata la somma alla nostra Regione nel triennio 2020-2022. Inoltre, il Governatore ha annunciato che stanzierà 2 milioni di euro per gli interventi più urgenti. Questi si aggiungeranno al milione e mezzo, già previsto contro l'erosione prima di quest'ondata di maltempo. Gli interventi risolutivi, invece, saranno molto più costosi. Stiamo cercando, insieme ai comuni e ai sindaci coinvolti, di cercare la soluzione migliore, anche in un'ottica di rimodulazione dei fondi che i comuni già avevano assegnati. È un lavoro non semplice, ma la mia idea è quella di finirla con gli interventi spot, che poi alla fine non servono a nulla e che poi sono soltanto uno sperpero di denaro pubblico. Occorre invece una programmazione seria che noi come Regione Abruzzo abbiamo e bisogna investire in questo senso, con interventi definitivi che poi possono garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Rimane il fatto che la costa abruzzese è totalmente devastata da nord a sud. La situazione più critica ad Alba Adriatica, dove il mare ha scavato la terra sotto gli stabilimenti e invaso le rotonde del lungomare. Il sindaco, Antonietta Casciotti, ha vietato l'accesso in tutto l'arenile della foce del Vibrata e chiederà lo stato di calamità naturale. Anche a Martinsicuro parte del lungomare è stato chiuso, qui l'acqua è riuscita a sradicare anche le panchine. A Villa Ardente le mareggiate hanno alzato la carreggiata della ciclabile, mentre il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio, ha chiesto lo stato di emergenza. A Roseto e Silvi la spiaggia è praticamente scomparsa. Il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani, ha convocato per oggi una riunione straordinaria della maggioranza e ha invitato i rappresentanti della regione a recarsi in loco per un sopralluogo. Questa è la situazione a Casalbordino, anche qui della spiaggia è rimasto ben poco. Sulla questione è intervenuto anche il presidente regionale del sindacato dei balneatori. Vogliamo dire una cosa ad alta voce. Alla regione Abruzzo ci sta 100.000 metri cubi di materiale fermi nella vasca di Colmata, nel porto di Pescara. Quelli sarebbero utilissimi adesso per tamponare questo problema. Siccome quel materiale è stato analizzato idoneo per sversarlo in mare, non capiamo perché dallo scorso anno stiamo ringorrendo chi lo deve fare e chi non lo deve fare. Quel materiale si può portare anche da terra verso mare. Allora facciamo una cosa, dateci a noi la disponibilità di operare, dateci a noi il finanziamento, ci organizziamo noi e sicuramente riportiamo un risparmio alla regione Abruzzo. Secondo il Comitato Dune e Bene Comune, invece, ora è il tempo delle lacrime di Coccodrillo. La costa abruzzese è tra le più cementificate in Italia e, secondo uno studio dell'Enea, tra quelle più a rischio. Questo a dimostrazione di quanto lo zampino dell'uomo sia determinante anche a proposito di calamità naturali. Dove infatti non sono state spianate le dune, come Abbasto o Ortona, la spiaggia è sopravvissuta. Occorrerà quindi impedire la costruzione di nuovi stabilimenti balneari.